Lutto a tovo per la scomparsa di Lino Quadrio, storico giudice di gara, spentosi a 83 anni. Il suo impegno nel mondo dello sport si è sviluppato in più direzioni. Negli anni 70 fu tra i fondatori della Centro Olimpia di Lovero, fucina di talenti dell'atletica. Mondo che ha frequentato per 50 anni. Generazioni di podisti lo hanno visto dallo start. Conosceva tutti gli atleti ed era impegnato sia in provincia di Sondrio, sia nelle competizioni lombarde. Grande la sua passione per i motori, spesso era giudice di gara del rally Coppa Valtellina. Nel mondo del ciclismo è stato un pioniere. Flui a capire prima di tutti il fenomeno mountain bike, che agli esordi si chiamava Rampichino. La sua cicliquadrio è stata appunto di riferimento per i primi appassionati delle ruote grasse. Creò anche un team di successo, la VIS, come sponsor, che teme a battesimo atleti di alto livello. Una vita alla sua dedicata al lavoro, alla famiglia e allo sport. L'intervista con il cronometrista, il direttore di gara, insomma, perché è importante il vostro ruolo? Ma è importante perché senza di noi praticamente non viene fatta la gara. I giudici sono importanti in queste gare perché risolvono praticamente il problema della gara. A che ora stamattina la sveglia per essere qui ad Albosaggio? Eh, bene, non è che ci sia alle sei e mezza. Da quanti anni ha questa passione? Beh, io che sono in mezzo, non ero giudice, però sono 48 anni. Complimenti. Un po' di tempo. Grazie. Ci vediamo, dai. Ciao, ciao. Grazie.